Siamo qui per dare una mano affinché il centro-sinistra vinca e abbia i numeri sia alla Camera che al Senato per poter governare. È evidente che la prossima legislatura sarà un'altra legislatura difficile, impegnativa, dove chi si assume oggi la responsabilità di guidare il Paese dovrà anche assumere decisioni non sempre facili, non sempre popolari, non sempre tali da accontentare tutti. Oggi assumersi la responsabilità di governare significa metterci la faccia. Il centro democratico nasce come risposta alternativa a quegli elettori moderati, cattolici, riformisti, laici, liberali che vogliono una garanzia e una rassicurazione sul fatto che il futuro governo avrà una forte componente di questo profilo ma lo fa a viso aperto accettando il confronto e dicendo con chiarezza il campo nel quale intende correre.